Sono 121 i femminicidi avvenuti in Toscana negli ultimi 15 anni, nel periodo che va dal 2006 al 2020. Nello stesso periodo 41 sono stati minori che sono rimasti orfani a seguito di questi fatti di sangue. Sono queste le cifre più drammatiche che emergono dal tredicesimo rapporto sulla violenza di genere in Toscana realizzato dall'osservatorio regionale sulla violenza di genere. Il rapporto documenta con evidenza la lunga scea di sangue e di violenza che interessa la nostra regione e che continua ad allargarsi presentando un evidente filo conduttore. La grande maggioranza di questi eventi hanno la loro radice nella relazione di coppia, 87 casi. Davanti a questi scenari numerose sono le attività messe in atto che il rapporto sulla violenza evidenzia con cura tra le quali i centri antiviolenza, le case rifugio, i centri per uomini autori di violenza, la rete regionale del Codice Rosa e i consultori. È un rapporto che si compie attraverso i dati che ci vengono forniti sia dai centri antiviolenza che dalle nostre strutture territoriali, dai nostri servizi territoriali, dai consultori e dalla rete del Codice Rosa. Mette insieme sostanzialmente tutti i dati legati ai temi della violenza di genere, ne fotografa la situazione e fotografa chiaramente le azioni di sistema e la loro efficacia dal punto di vista delle azioni che svolgono rispetto sia ai temi della prevenzione che ai temi della presa in carico dei centri antiviolenza. La regione è in prima linea da sempre contro il fenomeno della violenza sulle donne. Abbiamo una legge regionale in materia, siamo state tra le prime regioni, ormai da anni anche quando di questo fenomeno se ne parlava molto meno e stiamo al lavoro su tutti i fronti, ad esempio nel sostenere il reinserimento lavorativo delle donne che fuoriescono da un momento di violenza. Penso appunto all'impegno che abbiamo confermato grazie alla nostra agenzia regionale Toscana per l'impiego e ai centri antiviolenza in stretta sinergia rispetto a formazione e politiche attive del lavoro proprio per promuovere un ritorno a un'autonomia che deve essere economica. Quindi le donne devono poter uscire dalla violenza e devono poter essere libere di farlo. Ma anche penso all'importante lavoro che stiamo facendo con le scuole.